Quartier e Quintè non corre Ultras Grif che rendeva 20 metri, ne rimangono in 14, Carlatti numero 14, Gaetano Di Nardo il più gettonato almeno per il momento al totalizzatore. Ricordo che ne partono in 8 davanti e non più di tanto. New Dream Ricks alle prese con Tuono delle Selve, i due in lotta, l'uno subito a trabellone, passa a metà della piegata il 4 New Dream Ricks. Lunga fila indiana, un 14,8 eloquente, nelle prime posizioni ottimo trupiale numero 7, cavallino che si presta proprio in queste corse e anche la ditta 29,7-400. Ora può leggermente graduare New Dream Ricks nei confronti di Tuono, trupiale, poi Bean Center Road e gli altri. 44,8 e 600. E siamo al completamento della piegata, non avvengono variazioni, con la fila indiana sempre come da partenza. Mezzomiglio in 1,1, cromo da frazioni in 16,2 impiegata, è esposta ora Vincent Road, anche lui un po' chiacchierato, pedinato da Tutankhamon. Il primo chilometro se ne va in 16, ottima la frazione davanti alle tribune. E così si è formata una seconda fila a largo, però al comando è sempre lui, questo bel roano che si chiama New Dream Ricks. I cavalli affrontano il penultimo rettilineo, si avvicina a Vincente, Road, un nome che ha tutto un programma, e già ai 600 è predominante. Passa Gaspariello Verde e il suo Road e siamo all'attacco della curva finale, inseguito dal numero 6 Tutankhamon. 1,59, un po' di spiccioli in miglio, tenta la fuga, Vincent Road, Tutankhamon, viene via anche l'11 di A per Deni. Retta d'arrivo, prende nuovamente vantaggio Vincent, Vincent al comando, Tutankhamon a per Deni, trupiale, la lotta è incerta, i cavalli sono in zona traguardo e sul traguardo, lotta incertissima. Vincent, di nome e di fatto, annunciato da Emilio Migliaccio, dalla mattinata, molto gettonato. Facciamo i complimenti a tutti e due, a Gasparolo Verde e anche a Emilio, che ha detto che questo cavallo, dalla prima mattina, era molto gettonato e seguito. Alla grande è sempre la tuffanomania a Per Deni, dell'avvocato Gragnanello, che fa una grande corsa e prende un'ottima seconda munita. Se mi date ora l'arrivo un po' in panoramica, vediamo un po' per le altre piazze. Per il terzo dovrebbe essere trupiale di dentro e poi quarto dovrebbe essere Tutankhamon e per il quinto aspettiamo. Facciamo una cosa, diamo l'accoppiata, se ci fanno rivedere. Ah, ecco, vedete, Vincent, allargo a Per Deni, di dentro tuffale, buca e rubba a Tutankhamon. Quinto è il numero 14, Scarlatti Lewis, che era il favorito. Quinti due per il primo, signori, undici per il secondo, sette per il terzo, sei per il quarto e quattordici per il quinto. Questa dovrebbe essere la triste quartè e quintè di questa sera. Attendete sempre l'ordinario ufficiale, poiché lo fa la giuria, ma non lo zio Salvio. Però lo zio Salvio fa i saluti, ringraziamenti, a Valerio e Pierfrancesco, che ci hanno seguito e Emilio per i suoi consigli speciali per gli acquisti. Linea alla regia.